sono in via di ultimazione anche i lavori a centola che riguardano il finanziamento di un centro socio assistenziale e di una biblioteca comunale un altro obiettivo straordinario raggiunto che da risposte concrete ai nostri giovani ai nostri anziani luoghi degni di tale nome in cui si possono incontrare in due ambienti distinti e separati tra l'altro abbiamo anche immaginato come amministrazione di intitolarlo questi spazi uno a un giovane che ha perso la vita un giovane dicendola l'alessandro saggiomo e l'altro al nostro benemerito carlo acutis quindi grande soddisfazione non vediamo l'ora di poterli inaugurare perché anche questa è una risposta concreta di un impegno politico serio che dà risposte ai nostri concittadini ai nostri giovani parliamo di una struttura di circa 300 metri quadri su due livelli e noi ci auguriamo che entro il mese di giugno possiamo inaugurare questi locali per un importo complessivo finanziato dalla regione campania di circa 450 mila euro quindi l'augurio è che prima di giugno possiamo inaugurare questi locali con la regione